C'era anche un personaggio qui presente, una dolcissima donzella presente nel video. Mi piace questo video perché si fa la vita, bello, bello, tante collaborazioni, evviva, faccio inusuali, a vostra compagnia, a vostre cose. Perché mi sono reso conto che io non so quanto fare musica, però se metto faccio un po' effemene così. Ma è spona. Grande, grande, te che hai giusto a me appoggio. No, potevano al limite anche chiedere una mia partecipazione. Ah beh, sì, perché no? Ma senti questo, ma guarda te. Ma che bella donna in più. Ciao, prossima volta, poi portatevi a Caera. Se vuoi troncargli la carriera subito, vuoi partecipare ai loro videos. Come è questo caso secondario. Ah sì, beh no, non vuoi mi rubare la piazza. No, vuoi mi tappare la protagonista del video. Esattamente, esattamente. No, però. E ora vuote. E quindi questo video quasi riferiva al tuo nuovo lavoro. Sì, il nuovo lavoro è il pezzo del due, che avevo fatto anche il primo. E abbiamo scosso un seguito, un fia, visto il successo del primo, vuoi fare anche il secondo. E come è andato? Ah, insomma, dai. La gente guarda il video, commenta, solita roba, insomma, niente di che. Prego. E appunto che ho messo anche a Ea, sto giro, ho visto male chissà qualche cosa. Ma come è nata sta collaborazione, quel botte? Ci siamo trovati ad una festa, dopo lui mi ha contattato e... No, non ho visto male. Eeeh. Ah. Bene. Se non è stato in tensione, sai. Però dopo che ho visto, quando andavo a cantare, ho visto. Eh sì, ho visto. Beh, è sempre, no, fia così. Se suona, di solito, ti cerchi di tirare, di a bella gente dentro il gruppo. Ah sì. Eh, posso dire una roba a me? Posso dire una roba? Ti, gente, stai parlando, ho visto, bello il video. No, no, ma ti dici sempre, ho visto in te. Esatto, no, bello il video, bello tutto. E ho detto, voi dovrebbe la ragazza che... L'avevo vista da qualche parte, e l'avevo parla. Bene, bene. E ora, invece sto video, te lo vedi da qua, in zona. Dì, da dove sei il tuo sito? Mi sono da Mira, da Gambarale. E dì, da dove sei il tuo sito? Da Marano, di Mira. Ah, oh, ragazzi, quindi se tu ti tosi della campagna, col pedigree. Sì, sì. Perché io stavo a 100 metri a casa mia, mi stavo scantenito. Anche perché c'era il video per i campi, anche se ci sono visto a Ciccina. Era quello che gettava dentro a Bacinea, però c'era per i campi, ma a Bacinea che stava... Era lì casualmente, esatto. È ciò che hai visto, sei educato. Era giusto almeno una Bacinella che passava di lì. Eh, sì. Esattamente. E quindi, dopo questo, dovevi girare in centro a Mira, insomma, ti... Mira, andò, chi posti là, scordi. I posti dove ti frequenti con la tua compagnia, immagino. Eh, sì, esattamente. Camporella, scusa, lo so io. No, 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 beh. I posti che frequenti io, non ho detto ti, ti del solito. No, no, nel senso sano del termine. Appunto, quindi... Beh, dai, ora... E invece, sempre fai i tuoi di campagna che io voglio contattarti da casa... Sì, come MySpace o Facebook, basta anche su Google, scrivere The Bottle, e trovermi, e trover tutto quanto. Ah, esatto. Facebook, MySpace... Invece, mi so che Lady Poison ha il contatto Facebook... No, MySpace, cosa hai detto? Il MySpace qui. Ah. www.myspace.com slash The Bottle Man. Ah, caspita, ma... Scusate, dammi un attimo questo microfono, perché, secondo me, cioè... Veramente ti, per essere Lady Poison, puoi avere attesa massa brava a dirsi. Riprova, 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 falla a ti. Prova a dirvi il sito del Bottle, scusa. www.myspace.com Dagli un attimo la cartellina che lei sa... Tenghi la mia cartellina. Allora, www.myspace.com Meglio, meglio, sì, così, meglio. slash The Bottle Man. Eeeh! Allora, hai detto giusto lui? Hai detto giusto, no? Ehi. Però, sì, scusa, ma mi sembri un uomo, sai com'è. Sì, figo, cosa ti ho detto? Viste il Dada Drio? Beh, Dada Drio... Dada Drio... Cioè, uno, già vero, con bussola tutto, ma addirittura tutte e due, voglio dire, non so, io se è possibile. Infatti, sì, Menele, se rientro, ma non ti permettermi, sta Lady Poison, artificiale, in parte, perché... Perché ho visto particolarmente affiatati, anche su rubrica. Esatto, ce l'ho dito dire a stessa roba, ti ho visto come va a finire dopo. Eh, oh, va bene. Posso? Se sentiamo. E ora, mi so che, io vedi se il botte, adesso non è fà una canzone. Qua in studio. Sì, dai, forse una canzone. E cioè, ora, guarda, ti, intanto ti, questo qua, ma che sei a posto così. Ti metti a carica, che attiro via. E intanto che diciamo, Ariya, buttare su, a Ba. Ariya, buttare su, a Ba. E io devo qua, con il mute. Fai un applauso, ragazzi.